Un saluto ai lettori di BetComics.it e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un manga uscito nel 2018 pubblicato da Flashbook, si intitola Cousin di Ryo Ikuemi. Questo manga è stato originariamente pubblicato in Giappone nel 2005 dalla casa editrice Shodensha e racconta la storia di Tsubomi. Tsubomi è una giovane ragazza di 18 anni che ha recentemente concluso il liceo, dopo del quale ha deciso di intraprendere la carriera della Freeter. I Freeter sono dei giovani giapponesi che prediligono un lavoro part-time a uno a tempo pieno, così da avere più tempo libero da dedicare ad altre attività. Tsubomi si trova così a lavorare in un video di roleggio, luogo in cui incontra Shiro, suo collega e coetaneo di rara antipatia. Infatti due all'inizio non andranno per niente d'accordo, però il problema non sarà soltanto il carattere forse un po' troppo scherzoso di Shiro, ma soprattutto le insicurezze di Tsubomi. Insicurezze che sono le protagoniste di questa storia. Tsubomi infatti è una ragazza che ha molte difficoltà a rapportarsi con i suoi coetanei maschi, soprattutto perché ha frequentato un liceo interamente femminile, quindi non si è mai posta il problema. Ma arrivata ai 18 anni comincia a pensare che l'essere sempre stata single e non riuscire a rapportarsi con gli uomini possa diventare per lei un problema. Durante questa storia vediamo la nostra protagonista in diverse situazioni sociali che vanno dal contatto con gli uomini appunto al dover frequentare dei locali, all'uscire con le amiche o a semplicemente andare dal parrucchiere. Queste insicurezze che lei riscontra soltanto nel rapporto con i ragazzi in realtà sono generalizzate. Lei si trova in difficoltà in quasi tutte le situazioni sociali, anche quelle più quotidiane. Di conseguenza decide di cominciare a lavorare su se stessa per migliorarsi e il suo modo di migliorarsi è cominciare con una dieta e quindi lavorare sul suo aspetto esteriore. Questa decisione è anche dettata dal fatto che Tsubomi ha una cugina d'eccellenza. Sua cugina infatti è Noni, un idol famosa in tutto il Giappone per il suo aspetto. È una ragazza assolutamente bellissima e Tsubomi comincia a chiedersi ma se io cominciassi a prendermi più cura di me, cominciassi a dimagrire, potrei diventare bella come lei e quindi le altre persone mi apprezzerebbero di più e soprattutto gli uomini mi apprezzerebbero di più. Vediamo dunque come Laiku Emi racconta una storia di una ragazza che comincia a far coincidere la bellezza esteriore con la bellezza interiore senza rendersi conto di come le persone attorno a lei in realtà l'apprezzino molto per quello che è. È una ragazza onesta, ingenua, di di buon cuore e gli altri se ne accorgono e l'apprezzano e la invidiano per questo motivo, però Tsubomi non riesce a rendersene conto. Comincerà infatti un percorso in cui il suo rapporto col cibo progressivamente si sgretolerà. Questa miniserie in tre volumi può essere interessante anche per questo, perché Laiku Emi affronta il tema del disturbo alimentare e del rapporto col proprio corpo e quindi può essere interessante vedere dove andrà a parare a conclusione della sua storia. Come sarà alla fine della serie il rapporto di Tsubomi col cibo? Quindi pur essendo un manga shoujo, il tema più interessante è quello della crescita della protagonista, del superamento delle sue insicurezze, di vedere appunto come andrà a concludersi la sua storia indipendentemente da come finirà con il suo interesse amoroso. Interesse amoroso che in questo primo numero è piuttosto interessante però, è un altro aspetto curioso di questa storia che rende così in uno shoujo un po' atipico. Infatti la prima cotta di Tsubomi è Nasukawa. Nasukawa che non è un suo kaitaneo, è un uomo adulto a 30 anni, un background che viene appena accennato ma piuttosto interessante e anche per quanto riguarda il suo character design è un personaggio piuttosto diverso da quelli che solitamente si vedono nei manga shoujo. Parlando invece dello stile di disegno dell'autrice questo manga ha uno stile tipico dello shoujo dell'inizio degli anni 2000. I volti sono gli elementi più curati così come gli outfit dei personaggi quando vengono rappresentati a figura intera. Le tavole sono comunque piuttosto essenziali soprattutto per quel che riguarda gli sfondi che sono spesso appena accennati e sono più dettagliati soltanto nel momento in cui è importante per il lettore sapere in che luogo i personaggi interagiscono. Le linee del disegno sono morbide e arrotondate e restituiscono proprio una sensazione di delicatezza in ogni tavola. Spesso gli sfondi sono caratterizzati da retini o proprio da disegni a tema floreale per enfatizzare ancora di più la bellezza dei volti dei personaggi così come spesso accade nei manga shoujo. Un manga interessante, questo primo numero invoglia moltissimo a proseguire con la storia. Non solo perché è inevitabile affezionarsi un po' a questa curiosa protagonista ma anche per il fatto che appunto oltre ad interessarsi a quello che è l'intreccio amoroso principale della storia si finisce con il desiderare di sapere che cosa accadrà a Tsubomi riuscirà effettivamente a sentirsi migliore o ad accettare di più quello che è con i suoi pregi e i suoi difetti. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio di aver seguito questa video recensione e cari lettori di Bad Comics, alla prossima!